Un uomo di 35 anni è stato arrestato dal commissarato di Termoli per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato. L'uomo, già agli arresti domiciliari, aveva litigato con la sua compagna, che stanca del suo comportamento aggressivo, aveva quindi chiesto aiuto alla squadra volante. In evidente stato di agitazione e ubriachezza, il 35enne, quando ha visto arrivare la polizia, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, minacciando di ammazzarli tutti. Denunciato in stato di libertà anche un 51enne, che ha iniziato ad inveire ugualmente come il primo contro la polizia, nonostante fosse già gli arresti domiciliari. Violando la disposizione, ha poi creato disturbo alle persone all'interno di un esercizio pubblico, proprio a causa di un evidente stato di ubriachezza, molesta. Segnalato all'autorità giudiziaria, anche una donna di 30 anni, che si è resa responsabile del reato di furto aggravato. Tutto è avvenuto in un centro commerciale termolese, dove la trentenne ha sottratto dagli scaffali merce per circa 300 euro. Infine, nei guai, anche due minori di origini pugliesi, che hanno perpetrato un furto in un'attività commerciale della città. I due sono stati individuati grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti negli esercizi pubblici. Grazie a tutti.